Capitolo quindicesimo Bambina mia, disse Lovisa, hai tutti i capelli bagnati, hai fatto una notata? Ronia rimase immobile a guardare sua madre. Era lì, appoggiata alla parete rocciosa, tranquilla e sicura come la roccia stessa. Ronia la guardava con amore, ma avrebbe preferito che fosse arrivata in un altro momento. In qualsiasi momento, ma non in quello. Avrebbe voluto essere sola con Birk. Era come se la sua anima ancora tremasse dopo tutto l'orrore e la paura. Oh, sì, desiderava soltanto poter parlare in pace con Birk e sola con lui poter godere la felicità di essere vivi. Ma Lovisa era lì, la sua cara Lovisa, che non vedeva da tanto tempo e sua madre non doveva mai sentirsi sgradita. Ronia le sorrise. Sì, abbiamo fatto una notata io e Birk. Birk lo vide che già stava entrando nella grotta e non le piacque. Non doveva farlo. Gli corse dietro e gli chiese sottovoce. Non viene a salutare mia madre. Birk la guardò freddamente. Gli ospiti indesiderati non si salutano. Così mi ha insegnato mia madre fin da quando mi dava il latte. A Ronia mancò il respiro. Faceva male essere così violentemente arrabbiati e così profondamente disperati. Birk se ne stava lì, guardandola con occhi gelidi. Lo stesso Birk poco prima aveva sentito tanto vicino e con il quale stava per andare serenamente perfino nella cascata del calcagno. Ora la tradiva e diventava un estraneo. Oh, come sentiva di odiarlo. Non aveva mai provato un'ira così violenta. E non odiava soltanto Birk a pensarci bene. Odiava tutto. Proprio tutto. Tutto e tutti che la facevano soffrire tanto fino a farla scoppiare. Birk e l'Ovisa e Mattis e le strigi e la grotta degli orsi e il bosco e l'estate e l'inverno e quell'undisa che insegnava delle bestialità a Birk quando era ancora un lattante e le strigi crudeli. No, attenzione, quelle le aveva già nominato una volta. Ma ne rimanevano tante di cose che odiava al punto da mettersi a urlare, anche se in quel momento non le venivano in mente. E aveva voglia di urlare e avrebbe urlato fino a spaccare la montagna. E invece non urlò. In un soffio disse soltanto a Birk prima che sparisse nella grotta. Peccato che tua madre non ti abbia dato anche un po' di buonsenso, già che c'era. Dopo tornò da l'Ovisa e le spiegò. Birk era stanco, disse, e poi tacque. Si buttò a terra accanto a sua madre e nascondendo il viso nel suo grembo si mise a piangere. Non però così forte da spaccare la montagna. Era soltanto un piccolo pianto soffocato che non si sentiva. Tu sai perché sono venuta, disse Lovisa. E Ronia murmurò tra il pianto. Non per darmi il pane, vero? No, disse Lovisa carezzando le capelli. Il pane lo mangerai quando sarai a casa. Ronia tirò su col naso. Non tornerò mai più a casa. E allora? Matti si butterà nel fiume, disse Lovisa con calma. Si butterà nel fiume per colpa mia? Ma se non mi nomina mai? Non quando è sveglio, disse Lovisa. Ma piange tutte le notti e nel sonno ti chiama. Come lo sai? Disse Ronia. È tornato nel tuo letto? Non dormi più nella camera di Zuccaper? No, disse Lovisa. Zuccaper non lo sopportava più e anch'io ce la faccio a fatica. Ma deve pure avere qualcuno che gli vuol bene nei momenti peggiori. Rimasa lungo in silenzio, poi disse. Sai, Ronia, è doloroso vedere qualcuno che soffre così terribilmente. Ronia sentì che stava per scoppiare in quel pianto che avrebbe spaccato la montagna, ma serinse i denti e chiese con calma. Lovisa, se tu fossi una bambina e avessi un padre che ti rinnegasse al punto di non nominarti neppure una volta, torneresti da lui, se non venisse almeno una volta a chiedertelo. Lovisa riflettò un poco. No, non tornerei. Dovrebbe chiedermelo. Sì, dovrebbe. Mattis non lo farà mai, disse Ronia. E di nuovo nascose il viso nel grembo di Lovisa e bagnò la sua gonna ruvida di lacrime silenziose. Era arrivata la sera e con essa il buio. Anche i giorni più duri giungevano alla fine. Vai a letto, Ronia, disse Lovisa. Io rimarò qui a fare un sonnellino e appena si farà giorno, tornerò a casa. Voglio addormentarmi nel tuo grembo, disse Ronia, e devi cantarmi la canzone dei lupi. Le venne in mente che aveva provato a cantare la canzone dei lupi a Birk, ma si era stancata presto e pensò che in tutta la sua vita non avrebbe più cantato canzoni per lui. Era più che sicura. Ma Lovisa cantava e il mondo fu di nuovo come doveva essere. Ronia si sprofondò nella pace della sua infanzia e con la testa nel grembo di Lovisa si addormentò sotto le stelle e si svegliò quando il sole era già alto. Lovisa era sparita, ma non si era portata via allo scialle grigio con il quale aveva coperto Ronia. E Ronia sentì il suo calore appena sveglia e ne sentì l'odore. Sì, c'è un po' di Lovisa dentro, pensò, e il suo scialle odorò un pochino come quelle pronto che avevo una volta. Là, presso il fuoco, c'era Birk, tutto raggomitolato, con la testa appoggiata sulle braccia e il casco di capelli rossi che gli ricopriva il viso. Sedeva là e sembrava così desperatamente abbattuto che Ronia ne provò dolore. Dimenticò tutto il resto e gli si avvicinò un poco trascinandosi dietro lo scialle. Esitava. Forse Birk voleva stare in pace, ma non poteva fare a meno di chiedere. Cos'hai Birk? Birk la guardò e sorrise. Sono tanto triste, sorellina. Perché? Chieseronia. Sono triste perché tu sei veramente mia sorella. Quando ti chiama la cascata del calcagno? E basta. Non quando ti chiama tuo padre per mezzo di tutti i suoi messaggeri. E per questo mi comporto come un maleducato e sono triste anche per questo, se vuoi saperlo. E chi non è triste? Pensò Ronia. Forse non dovrei esserlo io, che non riesco a contentare nessuno. Ma non è giusto dare la colpa a te, continuò Birk. Tutto come deve essere, lo so. Ronia lo guardò timorosa. Ma vuoi essere sempre mio fratello? Certo che lo voglio, disse Birk. Io sono tuo fratello, interamente, completamente in tutto, e lo sai. Ma ora? Devi anche sapere perché voglio stare in pace quest'estate senza messaggeri da Castelmatis e perché non voglio parlare mai dell'inverno. A dire il vero, Ronia desiderava sapere soprattutto quello. Si era domandata tante volte perché Birk non si preoccupava dell'inverno. Adesso c'è l'estate, sorellina, diceva sempre tranquillamente, come se l'inverno non dovesse mai arrivare. Abbiamo soltanto quest'estate, noi due, disse Birk, e sento che non mi importa niente di vivere se tu non sei qui con me. E quando verrà l'inverno tu non ci sarai più. Sarei tornata a Castelmatis. E tu, chiese Ronia, dove sarai? Qui, rispose Birk. Sì, potrei tornare a Forte Borca. Non sarei buttato fuori, lo so. Ma a che cosa servirebbe? Ti perderei lo stesso. Non potrei nemmeno vederti. Preferisco rimanere nella grotta degli orsi. A morire di freddo? Disse Ronia. Birk si mise a ridere. Forse sì, forse no. Conto sul fatto che potresti venire fin qui sugli sci con un po' di pane e un po' di sale e la mia pelliccia di lupo se riuscirei a portarla via da Forte Borca. Ronia scosse la testa. Se fosse come l'inverno scorso io non ce la farei a sciare e nemmeno a passare dello schiantalupi. E se fosse come l'inverno scorso, abitare nella grotta degli orsi sarebbe la tua fine, Birk, figlio di Borca. E allora? Sarà la mia fine, disse Birk. Adesso però c'è l'estate, sorellina. Ronia lo guardò seriamente. Estate o inverno? Chi ha detto che io devo tornare a Castelmattis? L'ho detto io, disse Birk. Anche se ti ci dovessi portare personalmente. Se ci sarà da morire di freddo, morirò io solo, se così dovrà essere. Ma ora c'è l'estate, te l'ho detto. Che l'estate non fosse eterna lo sapeva, e lo sapeva anche Ronia. Ma cominciarono a vivere come se lo fosse e fecero del loro meglio per tenere lontano ogni pensiero tormentoso dell'inverno. Desideravano conservare ogni momento, dall'alba al crepuscolo e alla notte, e raccoglierne la dolcezza. I giorni arrivavano e se ne andavano. Eronia e Birk vivevano ubriacandosi d'estate senza preoccuparsi. Avevano ancora un po' di tempo. E nulla deve essere perduto, diceva Birk. Eronia era d'accordo. Sto succhiando l'estate come le api succhiano il miele, diceva. Sto facendo un grande impasto di estate da conservare per quanto, per quando l'estate non ci sarà più. Sai che cosa c'è dentro? E lo raccontava Birk. È un impasto di sorgere del sole, di ramoscelle di mirtilli pieni di mirtilli, di lentigine che hai sulle braccia, di raggi di luna sulla fiume la sera, di cielo stellato e di bosco alla calura di mezzogiorno, quando il sole riscada degli abeti. E anche di pioggerella serale e di tutto il resto. Di scogliattoli, di volpi, di lepre, di alci e di tutti i cavalli selvaggi che conosciamo. Di quando miottiamo e di quando cavalchiamo nel bosco. Sì, lo senti che è l'impasto completo di tutto questo. L'estate. Sei una brava impastatrice, diceva Birk. Continua. Dalla mattina alla sera stavano nel loro bosco. Pescavano e andavano a caccia per nutrirsi. Ma per il resto vivevano in pace con tutto quello che li circondava. Facevano lunghe passeggiate nella boscaglia per guardare gli uccelli e gli animali. Si arrampicavano sulla montagna e sugli alberi. Cavalcavano e nuotavano nei laghetti del bosco dove le strigine o le disturbavano. E l'estate passò. L'aria era diventata più limpida e più fresca. Ci furono un paio di notti fredde e all'improvviso una bitulla vicino al fiume e una foglia gialla sulla cima. La videro una mattina presto mentre sedevano vicino al fuoco, ma non ne parlarono. Altri giorni arrivarono, ancora più limpidi e sempre più freddi. Si riusciva a vedere a miglia di distanza sopra i verdi boschi, ma si vedeva anche quanto giallo e rosso c'era in mezzo a tutto quel verde. E presto la discesa verso il fiume fiamme già di rosso e oro. Stavano seduti accanto al fuoco e ne vedevano la bellezza, ma non ne parlavano. C'era più nebbia di prima sul fiume e una sera, quando andarono a prendere l'acqua alla sorgente, si era estesa anche sul bosco. Si trovarono all'improvviso nella nebbia più fitta. Birk posò il secchio d'acqua per terra e afferro Roria per un braccio. «Che cosa c'è?» chiese Ronia. «Hai paura della nebbia? Hai paura di non trovare la strada di casa?» Birk non le disse quello che temeva. Aspettava e a un tratto, dal più profondo del bosco, giunse quella canzone lamentosa che ricordava ancora così bene. Anche Ronia stette immobile ad ascoltare. «Li senti? Sono i sottoterrestri che cantano. Finalmente li sento anch'io». «Non li hai mai sentiti prima?» «No, mai», rispose Ronia. «Vogliono attirarci sottoterra. Lo sai questo?» «Sì, lo so», disse Birk. «Ti piacerebbe seguirli?» Ronia si mise a ridere. «Non sono mica pazza! Ma Zuccaper diceva...» «Poi tacque!» «Che cosa diceva Zuccaper?» chiese Birk. «Ah, sciocchezze», disse Ronia. E invece, mentre stavano lì ad aspettare che la nebbia si alzasse un poco per poter tornare a casa, continuò a pensare a quello che aveva detto Zuccaper. «Quando i sottoterrestri fanno sentire le loro canzoni nel bosco, vuol dire che è arrivato l'autunno e che l'inverno si avvicina. Ai, 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 ai!» Capitolo sedicesimo. Zuccaper aveva ragione. Quando i sottoterrestri facevano sentire le loro canzoni lamentose nel bosco, l'autunno era arrivato. Anche se Birk e Ronia non lo volevano ammettere, lentamente era morta l'estate. Le piogge autunnali erano così insistenti che perfino Ronia ne aveva abbastanza, malgrado di solito amasse la pioggia. Stavano giornate intere seduti nella grotta, ascoltando l'eterno ticchettio sulla roccia dello spiazzo. Con un tempo simile non potevano attizzare il fuoco e avevano tanto freddo che di quando in quando dovevano andare nel bosco e fare una corsa per riscaldarsi. Si riscaldavano un poco, ma si bagnavano tanto. Nella grotta si toglievano i vestiti fradici e a volte nelle coperte di pelo stavano lì seduti cercando di scoprire anche il più piccolo chiarore del cielo. Ma tutto quello che riuscivano a vedere dall'ingresso della grotta era soltanto un muro di pioggia. «Abbiamo un'estate molto piofosa», diceva Birk. «Speriamo che migliori». E finalmente cessò la pioggia. Al suo posto una tempesta di vento si scatenò sul bosco. La sua furia sradicò gli abeti e portò via le foglie e le betulle. Non c'era più lo splendore dell'oro e nella discesa verso il fiume si vedevano ormai soltanto alberi spogli che petosamente ondeggiavano nel vento impetuoso che cercava di strapparli alla terra. «Abbiamo un'estate molto ventosa», diceva Birk. «Speriamo che migliori». Non migliorava, peggiorava. Arrivò il freddo e ogni giorno faceva più freddo. Ormai non era più possibile tenere lontani i pensieri dell'inverno. Ronnie almeno non ci riusciva. La notte faceva brutti sogni. Una notte vide Birk in un letto di neve, bianco in viso e con la brina sui capelli. Si svegliò con un grido. Era già mattina e Birk era fuori, affaccendato intorno al fuoco. Lo raggiunse di corsa e si sentì sollevata quando vide che aveva ancora i suoi soliti capelli rossi senza brina. Ma i boschi, al di là del fiume, erano per la prima volta bianchi di gelo. «Abbiamo un'estate gelata», disse Birk con un sorriso. Ronia lo guardò indignata. Come poteva essere così calmo? Come poteva parlare così tranquillamente? Non capiva niente? Non dava nessuna importanza alla sua vita? Non si doveva aver paura nel bosco Mattis, lo sapeva, e invece cominciava ad averla, ad avere una paura terribile di quello che sarebbe successo quando fosse arrivato l'inverno. «La mia sorellina non è felice», disse Birk. «È arrivata l'ora che vada a riscaldarsi presso un altro fuoco». Ronia tornò nella grotta e si sdraiò di nuovo sul suo giaciglio. «Un altro fuoco». «Non aveva più un altro fuoco». Birk parlava del fuoco di casa, nella sala di pietre, come poteva non desiderarlo dopo tutto quel freddo maledetto. Certo che desiderava riscaldarsi ancora una volta nella sua vita, ma non poteva andare a Castel Mattis perché non era più la figlia di Mattis. Il fuoco di casa sua non l'avrebbe più riscaldata, lo sapeva. Così era, e così doveva essere. Era inutile rimuginare quando non c'era nessuna via d'uscita. Vide che il secchio dell'acqua era vuoto, doveva andare alla sorgente. «Verrò, appena avrò acceso bene il fuoco», le gridò dietro Birk. Era faticoso portare l'acqua, dovevano essere in due. Ronia si allontanò per lo stretto sentiero lungo la parete della montagna, dove era necessario essere prudenti e fare attenzione a non precipitare a testa in giù dal pendio. Poi corse per il breve tratto attraverso il bosco fra gli abetti e le betulle, fino alla radura dove c'era la sorgente, ma non era ancora entrata nella radura che si fermò di colpo. Qualcuno sedeva sulla pietra presso la sorgente. Era Mattis, sì. Mattis era seduto lì. Ronia riconobbe subito la sua testa nera, ruffata, il cuore le balzò nel petto, e poi si mise a piangere e rimase a fare le betulle e a piangere silenziosamente da sola. E poi vide che anche Mattis piangeva, proprio come quella volta nel suo sogno. Mattis era seduto da solo nel bosco, soffriva e piangeva. Ancora non si era accorto di lei, ma quando alzò lo sguardo la vide. Si portò un braccio davanti agli occhi per nascondere le lacrime con un gesto così scoraggiato e disperato che Ronia non riuscì a sopportarlo. Con un grido corse da lui e si gittò fra le sue braccia. «Figlia mia!» sussurrò Mattis. «Figlia mia!» Poi gridò a voce alta. «Ho ritrovato mia figlia! Mia figlia!» Ronia pianse nella sua barba e chiese tra le lacrime. «Sono di nuovo tua figlia, Mattis!» «Sono veramente ancora tua figlia?» E Mattis piangendo rispose. «Sì, come lo sei sempre stata, Ronia mia! La mia bambina che ho pianto per giorni e notti! Mio Dio, come ho sofferto!» L'allontanò un po' da sé per poterla vedere in viso e chiese umilmente. «È vero quello che dice Lovisa, che tornerai a casa soltanto se lo chiedo io!» Ronia tacque e in quel momento vide Birk. Era lì tra le betulle, il viso bianco e gli occhi pieni di dolore. Non doveva essere così triste. «Birk, fratello mio, cosa stai pensando che ti fa soffrire tanto?» «Se è vero, Ronia, vieni con me subito!» insistì ancora Mattis. Ronia tacque e guardò Birk. «Birk, fratello mio, ti ricordi della cascata del calcagno?» «Vieni, Ronia, andiamo!» disse Mattis. E Birk rimase fermo, sapendo che era arrivato il momento, il momento di dire addio e di restituire Ronia a Mattis, ringraziandolo del prestito. Così doveva essere. Lui stesso l'aveva desiderato e l'aveva saputo da tanto tempo. «Perché soffrire tanto allora?» «Ronia, non capisci quello che sento. Vai, ma fai lui in fretta, vattene!» «Se non ti ho pregato abbastanza», disse Mattis, «lo faccio ora, con tutta l'anima. Ti prego, Ronia, torna a casa con me!» «Non ho mai passato un momento più difficile nella mia vita», pensò Ronia. Doveva dirlo subito, avrebbe distrutto Mattis, lo sapeva, ma lo doveva dire. Che voleva rimanere con Birk, che non poteva lasciarlo da sola a morire di freddo nel bosco. «Birk, fratello mio, nella vita e nella morte nulla può dividerci, lo sai?» E finalmente Mattis vide Birk e fece un profondo sospiro, ma poi gli urlò «Birk, figlio di Borca, vieni qui! Voglio dirti una parola!» Birk si avvicinò contro voglia e non più del necessario. Guardò Mattis negli occhi e chiese «Che cosa vuoi?» «In verità vorrei picchiarti», disse Mattis, «ma non lo farò. Invece ti prego con tutta l'anima, vieni con noi a Castelmattis. Non è perché mi piaci, non lo credere per bacco, ma piace a mia figlia, l'ho capito, e forse riuscirà anche a me. Ho avuto il tempo di pensarci bene ultimamente». Quando Ronia si rese conto di quello che aveva detto Mattis, cominciò a tremare dentro. Sentì come se qualcosa si sciogliesse. Come poteva suo padre, con poche parole soltanto, riuscire a sciogliere in un torrente di primavera quell'orribile pezzo di ghiaccio che aveva portato dentro di sé negli ultimi tempi. Com'era possibile quell'improvvisa cosa meravigliosa di non dover scegliere tra Mattis e Birk? Ormai non avrebbe perso nessuno dei due che amava tanto. Era accaduto un miracolo proprio lì e in quel momento. Pieno di felicità, amore e gratitudine guardò Mattis e Birk, ma si accorse che non era contento. Sembrava soltanto confuso e sospettoso, e Ronia ebbe paura. Così ostinato e ribelle come sapeva essere, pensò forse non voleva capire cos'era meglio per lui, pensò forse non voleva andare con loro. «Mattis», disse, «devo parlare da sola con Birk». «Perché?», chiese Mattis. «Beh, intanto vado a dare un'occhiata alla mia vecchia grotta degli orsi. Ma sbrigatevi, perché dobbiamo tornare a casa!» «Perché dobbiamo tornare a casa?», disse Birk con ironia quando Mattis comparve. «In quale casa? Crede che io voglia diventare lo zimbello dei briganti di Mattis?» «Mai!» «Lo zimbello?» «Ma tu sei scemo!», disse Ronia. e adesso era arrabbiata. «Beh, piuttosto morire di freddo nella grotta degli orsi!» Birk state zitto un momento, poi disse, «sì, certo, proprio così!» Ronia si disperò. «La vita è una cosa che l'uomo deve difendere, lo capisci questo? E se rimani nella grotta degli orsi durante l'inverno ti giochi la vita, e anche la mia!» «Perché dici questo?», chiese Birk. «Come faccio a giocarmi la tua vita?» Allora Ronia urlò. disperata e infuriata. «Perché io rimarrò con te, testone! Che tu lo voglia o no!» Birk rimase silenziosa e la guardò a lungo. Poi disse, «Sai cosa stai dicendo, Ronia?» «Sto dicendo che nulla può dividerci! E lo sai anche tu, testone!» Allora Birk le fece un sorriso dolcissimo, ed era bello quando sorrideva. «Non voglio giocarmi la tua vita, sorellina! È l'ultima cosa che voglio fare! Ti seguirò dove stai andando! Anche se così dovrò vivere con i briganti di Mattis, fino a non poterne più!» Avevano spento il fuoco e raccolto tutto. Lasciavano la grotta degli orsi ed era doloroso. Ma Ronia sussurrò a Birk in modo che Mattis non potesse sentire e non cominciasse a preoccuparsi inutilmente. «Ci torneremo a primavera!» «Sì, perché saremo ancora vivi!» disse Birk e sembra contento. Anche Mattis era contento. Li precedeva mentre attraversavano il bosco e cantava in modo tale che tutti i cavalli fuggirono spaventati fra gli alberi. Tutti, meno furfante e selvaggio, rimasero fermi ad aspettare, forse credendo che avrebbero fatto un'ultima corsa. «Non oggi!» disse Ronia e accarezzò il suo cavallo. «Ma forse domani! Forse tutti i giorni, se non cadrà troppa neve!» «Sì, torneremo! Cercate di rimanere vivi!» Videro che i cavalli avevano già il pelo più folto e presto avrebbero avuto una specie di pellice per proteggersi dal freddo. Anche furfante e selvaggio sarebbero stati certamente vivi in primavera. Mattis, però, era lontano ormai davanti a loro nel bosco e continuava a cantare. Dovevano sbrigarsi per raggiungerlo. Quando ebbero camminato parecchio furono vicini allo schiantalupi. Birk allora si fermò. «Mattis!» disse. «Desidero andare prima a forte Borca per vedere come stanno Borca e Undisa. Ma ti ringrazio tanto perché potrò venire da te per incontrare Ronia quando lo desidero!» «Sì, sì!» disse Mattis. «Non mi farà un gran piacere, ma vieni pure!» Poi scoppiò a ridere. «Sapete che cosa dice Zuccaper? Quel matto pensa che i gendarmi l'avranno vinta alla fine, se non stiamo attenti, e che perciò la cosa più saggia sarebbe, dice lui, che i briganti di Mattis e di Borca si unissero!» «Già, di progetti pazzeschi ne ha tanti quel vecchio matto!» Detto un'occhiata compassionevole a Birk. «È un peccato che tuo padre sia quel porco che, altrimenti, dopo tutto, si potrebbe anche pensarci sopra!» «Anche tu sei un porco!» disse Birk amichevolmente. E Mattis lo guardò sorridendo. Birk dette la mano a Ronia. In prossimità dello schiantalupio avevano sempre avuto l'abitudine di salutarsi. «Ci rivedremo, figlia di brigante! Tutti i giorni, lo sai, sorellina!» Ronia annui. «Tutti i giorni!» Birk, figlio di Borca. Cadde un silenzio assoluto fra i briganti quando Mattis e Ronia entrarono nella sala di pietra. Nessuno ebbe il coraggio di esultare. Era passato molto tempo da quando il loro capo autorizzava le grida di giubilo a Castel Mattis. Soltanto Zuccaperfece, un salto di gioia un po' troppo alto per la sua età, gli scappò una scuoreggina, ma se la prese con calma. «Ci deve pure essere qualche saluto per la gente che torna a casa!» disse. Mattis scoppiò in una risata così sonora e così lunga che i briganti la crevarono di felicità. «Era la prima risata di Mattis dopo quella disgraziata mattina alla bocca dell'inferno e i briganti si affrettarono a ridere anche loro. Ridevano fino a scoppiare, ridevano tutti, ironia compresa. Ma quando tornò Lovisa dall'ovile si fece di nuovo silenzio. Non si può ridere quando si vede una madre accogliere la sua bambina perduta e finalmente tornata a casa. Così sentirono i briganti nella loro semplicità e si commossero anche. «Lovisa, mi puoi portare la tinozza grande?» chiese Ronia. «Lovisa annuì». «Sì, è già qui e sto scaldando l'acqua». «Ne sono convinta», disse Ronia. «Tu sei una di quelle madri che pensano a tutto e una bambina più sporca di così non l'ho mai vista». «No, mai», disse Lovisa. Ronia era a letto, pulita, calda e con la pancia piena. Aveva mangiato il pane di Lovisa e bevuto tanto latte e poi Lovisa l'aveva strofinata nella grande tinozza fino a farle diventar rossa la pelle. Ora se ne stava nel suo vecchio letto di sempre e guardava attraverso l'apertura delle tende la fiamma che tremolava e poi si spegneva. Tutto era come prima. Lovisa aveva cantato la canzone dei lupi per lei e per Mattis. Era ora di dormire e Ronia aveva sonno, ma i suoi pensieri vagavano. Nella grotta degli orsi, pensò, sarà abbastanza freddo e io sono qui e sono calda fino alla punta del naso. Basta così poco per essere felici». Poi pensò a Birk chiedendosi come fosse andata Forte Borca. «Spero che abbia caldo anche lui fino alla punta del naso», pensò e dopo chiuse gli occhi. «Domani devo chiederglielo». La sala di pietra era silenziosa, ma poi Mattis gridò disperatamente. «Ronia! Che cosa c'è?» mormorò lei già mezza addormentata. «Volevo soltanto sentire che c'eri davvero», disse Mattis. «Certo che sono qui!» mormorò Ronia. Poi si addormentò.